C'è il dramma della gente dell'Emilia Romagna colpita dalle inondazioni nei pensieri e nelle preghiere di Francesco. Il Papa accoglie l'occasione dell'inizio della settimana laudato sì per ricordarlo. Invito tutti a collaborare per la cura della nostra casa comune. C'è tanto bisogno di mettere insieme competenze e creatività. Ce lo ricordano anche le recenti calamità come le inondazioni che hanno colpito in questi giorni l'Emilia Romagna, alla cui popolazione rinnovo di cuore la mia vicinanza. In piazza vengono distribuiti libretti sulla laudato sì preparati dal di Castero per il servizio dello sviluppo umano integrale in collaborazione con l'Istituto Ambientale di Stoccolma. Oggi in Italia e in molti altri paesi si celebra l'ascensione del Signore. Perché festeggiamo? Perché con l'ascensione è accaduta una cosa nuova e bellissima. Gesù ha portato la nostra umanità, la nostra carne in cielo. È la prima volta, eh? Ma cosa fa Gesù in cielo? Lui sta per noi davanti al Padre, per intercedere al nostro favore. Nella giornata mondiale delle comunicazioni sociali, Francesco poi saluta tutti i giornalisti e gli operatori della comunicazione. È il cuore che ci muove a una comunicazione aperta, accogliente. Saluto i giornalisti, gli operatori della comunicazione qui presenti. Li ringrazio per il loro lavoro e auspico che sia sempre al servizio della verità e del bene comune. Un applauso a tutti i giornalisti. Grazie. Grazie. Applauso a tutti i giornalisti. Grazie. 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 Grazie.